Tocca a me porvi saluti da parte dell'Adi, l'associazione design industriale. Diamo il benvenuto a un'azienda molto importante per il nostro settore, un'azienda storica, un'azienda che anche in ambito Adi ha già vinto diversi due, almeno che mi ricordo, con passi d'oro. Un'azienda italiana principalmente, ma ovviamente di vocazione internazionale, quindi si può definire una multinazionale. Un'azienda leader nel suo settore e anomala anche per identità e per taglio, perché oltre a muoversi nell'ambito della, per quanto poi ci riguarda, ricerca precisa e oculata del design, si muove anche in un ambito tecnologico e di sviluppo prodotto e poi di tematiche che approfondiremo nel corso di questo incontro con il dottore, presentiamolo, Guantieri, amministratore delegato della Vortice. Per cui insomma anche per il nostro settore la Vortice rappresenta un'azienda un po' anomala, perché è un'azienda molto strutturata, molto importante, con i programmi molto lunghi, riesce a interagire con, come si può dire, gli ultimi sapori del design che magari aziende più piccole lo sviluppano quotidianamente e nello stesso tempo si muove su una panoramica estremamente ampia, interloquendo poi con un grosso popolo di installatori, quindi è molto presente nel mercato, è molto vicino all'utenza e nello stesso tempo sviluppa tematiche che, come dire, appongono anche un po' il di sopra delle questioni del quotidiano. Spenderò due parole sulla Vortice, io non so se la conosciate, spero di sì, perché tanti prodotti di questa azienda, della nostra azienda, entrano in contatto con tante persone tutti i giorni, quindi soprattutto sul mercato italiano. Vortice ha delle caratteristiche, delle peculiarità effettivamente particolari come azienda. È un'azienda innanzitutto che è nata nel 1954, per volontà, idea, spirito imprenditoriale del nostro fondatore, il signor Attilio Pagani. È nata qui a Milano, in un piccolo garage, come spesso succedeva in quegli anni, quindi l'idea, la creatività del nostro fondatore, ha percepito un bisogno e da lì ha sviluppato poi quello che vedrete. Siamo nell'Inter la milanese, tra Melza e Melignano, a Tribbiano, e tutta la produzione, buona parte della nostra produzione, viene fatta, viene sviluppata qui in Italia. Il nostro settore di appartenenza è quello della ventilazione. Abbiamo un catalogo di prodotti molto grande, perché ventilazione, abbiamo il riscaldamento elettrico, la climatizzazione, la depurazione dell'aria, noi le chiamiamo poi igiene, gli asciugamani, gli asciugacappelli, quelli che trovate negli hotel piuttosto che nei bar, nei ristoranti, eccetera. Comunque, di fatto, noi abbiamo una peculiarità a tutti i nostri prodotti. Trattiamo l'aria, che è una cosa che nessuno ci pensa, ma è un elemento fondamentale per la vita di tutti noi. La trattiamo e cerchiamo di trattarla bene. La nostra mission è questa, che vedete alle spalle, che un attimino cerca di sintetizzare l'idea dell'imprenditore iniziale. Ed è quella che ci ispira tutti i giorni. Quando noi sviluppiamo, cerchiamo di sviluppare un'idea, un prodotto, e poi ci adentreremo all'interno dei meandri, della prototipazione, dell'innovazione, nei momenti in cui ci sono dei dubbi sulla strada di intraprendere, rifarsi alla mission dell'azienda è sempre un ancoraggio molto forte, perché ti dà la direzione. E questo vi posso garantire che rappresenta il faro di tutte le nostre attività quotidiane. Una mission, credo che lei mi aiuti, non si cambia. Cioè cambiare la mission di un'azienda vuol dire cambiare la pelle completamente. Non è una cosa che fra un anno si cambierà, fra due anni. Questa di fatto incarna lo spirito con cui l'imprenditore è partito dal piccolo garage in Viale Monterosa e ha creato il suo sogno imprenditoriale. Non è una strategia, è un filo conduttore. Quindi stravolgere la mission vuol dire stravolgere completamente il DNA dell'azienda. Stravolgere, si parlerebbe di un'altra azienda. Siamo molto attenti alle politiche ambientali, nel senso che proprio perché trattiamo aria, l'aria ha un importante approccio e relazione con tutti noi. La qualità dell'aria influenza il benessere delle persone. Il design rappresenta per noi un valore che influenza le scelte di sviluppo dei nostri prodotti. Lo riteniamo un valore oggi, un valore distintivo rispetto ai nostri concorrenti. Fare le cose, farle bene, è meglio farle bene e che piacciono rispetto ad assemblare soltanto dei componenti senza anima e senza feeling con l'installatore e con l'utente finale. Sicuramente c'è una riconoscenza dal mondo del design verso lo sforzo che l'azienda fa tutti i giorni per promuovere i propri prodotti con una grande attenzione, come vi dicevo, al design. Particolarità importante che pochi conoscono, abbiamo una collezione di ventilatori d'epoca, penso unica al mondo, oltre 700 pezzi raccolti. Il ventilatore, pensate che è stato il primo elettrodomestico della storia. Noi non siamo sicuri di avere il primissimo, che è stato un certo Edison a costruirlo per mostrare quello che l'elettricità poteva fare con un motore, con delle pale. Era un oggetto d'arredamento, oltre che per la funzione di muovere l'aria e raffrescare, molto costoso all'inizio degli anni, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Soprattutto in America, era un oggetto di lusso. C'erano circa 800 aziende che producevano ventilatori che spesso e volentieri erano fatti quasi a mano. E avevano un valore intrinseco altissimo. Se oggi pensate che voi lo comprate da Mediawar a 12,99 euro, capite che in 100 anni questo prodotto com'è cambiato nella sua natura e nel suo DNA. Una volta era un oggetto di lusso. Abbiamo una raccolta che è veramente interessante, soprattutto non solo dal punto di vista industriale e dell'oggetto, ma dei parallelismi con le fasi diverse della storia, della nostra storia. Abbiamo tantissime certificazioni di qualità. Siamo costretti ad averla vendendo in più paesi, in Europa e fuori dai confini europei. Quindi siamo soggetti a ispezioni dei vari enti di certificazione che garantiscono che i processi siano sotto controllo e in accordo con quello che i vari standard internazionali richiedono. E comunque ho cercato di sintetizzare in maniera abbastanza veloce un pochettino quello che è Vortice oggi. Quello che vediamo in questo specifico caso è l'idea di far in qualche maniera convergere e coniugare alcuni piccoli paradossi che fanno parte della dimensione aziendale. Voi che qui siete coinvolti in un percorso universitario vi sarete già abituati al concetto di trade-off economico che coinvolge tutti i giorni le scelte delle persone che stanno all'interno dell'azienda. E qui ne vediamo un altro esempio. Ossia, da una parte il valore è la scelta di lavorare su una dimensione industriale dei macchinari, vi dicendo. D'altra parte l'attenzione affinché un prodotto abbia non solo una sua funzionalità ma anche una sua dimensione estetica. Che in questo caso, lasciatemi dire, anche da non esperto nel contesto del design è interessante perché si tratta di prodotti che meno si vedono e meglio è, come dire. Quindi l'idea del design in sottrazione più che in aggiunta è una dimensione particolarmente sofisticata di questo tipo di contesto e ne leggo un valore estremamente interessante. L'altra dimensione che abbiamo visto nella gestione tra il percorso della sostenibilità da una parte, molto importante perché tutto sommato entriamo in uno scenario economico all'interno internazionale dove la sostenibilità è il primo punto dal quale partire una volta le teorie aziendali dicevano massimizzato o in qualche maniera messo a posto l'obiettivo economico, poi possiamo pensare anche alla dimensione di sostenibilità e qui c'è una profonda consapevolezza che unisce gli obblighi regolamentari, vi dicendo, di un'azienda che oggi sta in un mercato globale e dall'altra parte anche la necessità di pensare alla sostenibilità di chi sta a valle, dei clienti, quindi una dimensione che fa transitare, qui secondo me è un altro paradosso intellettuale, il percorso legato ai macchinari a essere partecipi dell'economia del benessere, quindi in particolare l'idea che questi siano strumenti che una volta erano uno strumento di status funzionali e vi dicendo ma essenzialmente avevano una funzionalità molto specifica e dall'altra parte oggi sistemi di prodotto che diventano parte integrante del nostro vissuto di benessere quotidiano e questo credo sia un'altra sfida interessante in qualche maniera da proporre, dall'altra parte sicuramente ritornando al titolo che qui vediamo anche l'obbligo e la necessità, soprattutto in un contesto di competizione globale, laddove altri produttori oggi arrivano da paesi che tipicamente usufruiscono di strutture di costo altamente competitive, che però dall'altra parte devono avere una ricaduta a valle sul cliente che fatica a avere questo tipo di dimensione, dicevo la capacità di coniugare in maniera strutturale una dimensione di sperimentazione che per definizione è emergente, che è legata ai processi di innovazione, che può essere ridondante, che ha bisogno di uno spazio anche di lavoro e uno spazio aziendale dedicato nel quale persone specializzate lavorino affinché nuove idee che siano di design, che siano di funzionalità, vi dicendo, emergono. E dall'altra parte la necessità di incastrare il tutto all'interno di un processo di pianificazione, quindi un approccio gestionale, tradizionale, aziendale che riesca a contestualizzare una dimensione, diciamo, volta all'innovazione con una dimensione volta a tradurre in pratica quell'innovazione con specifici obiettivi rispetto al mercato finale. Parliamo di ricerca, il tema della serata, quindi la ricerca, l'innovazione e l'impatto ambientale, quindi per Vortice da questo punto di vista ultimamente ne ha fatto un cavallo di battaglia, quindi la ricerca che punta a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti, prodotti che assolvono una funzione ma che hanno bisogno ovviamente di un continuo sviluppo. Il continuo sviluppo e il processo di innovazione arriva fondamentalmente da due parti, dal mercato e dalle normative, per tornare poi al mercato con prodotti sempre più innovativi. Quindi l'azienda che è fatta di ricerca e innovazione, questo piccolo schema rappresenta a due fasi ben precise con uno snodo centrale che è il marketing di prodotto, quindi c'è la ricerca e l'innovazione, una ricerca applicata, quindi non abbiamo la pretesa di fare una ricerca pura, assolutamente, si parla di ricerca applicata a quelli che sono i target e gli obiettivi dell'azienda, però sempre ricerca e innovazione, per tradurla poi in sviluppo nuovi prodotti c'è uno snodo centrale che può essere assolto da varie funzioni, da un marketing strategico, da un marketing di prodotto, ma fondamentalmente si parte sempre dal mercato e quando si dice mercato non è l'utente finale, difficilmente l'utente finale è quello che ti dice che prodotto servirà da qui a dieci anni, soprattutto in settori magari specifici come il trattamento dell'aria che diamo quasi per scontato. Solitamente è lo studio dei trend, dei mercati che ti dà un'indicazione per il futuro e l'altro sono le normative, le normative che sono in fieri cosiddette o quelle che arrivano sui tavoli dell'ufficio tecnico in quanto già operative. Quindi mercato e normative influenzano sicuramente la ricerca e l'innovazione all'interno di un'azienda come Vortice. Lo sviluppo nuovi prodotti poi ci rimette in contatto con il mercato, quindi si parte dal mercato, si parte le normative per ritornare al mercato con un'offerta di prodotti che si spera sia quella che c'entra non solo l'aspetto normativo ma i trend, i trend di sviluppo. La ricerca e innovazione è sicuramente un'attività strategica per l'azienda, dall'idea al prodotto però non tutte le ciambelle riescono col buco solitamente, sono risorse che spesso sono a fondo perduto, è però la fucina delle competenze e quindi la base del futuro dell'azienda, cioè la ricerca e sviluppo, la ricerca e innovazione, la ricerca e sviluppo, chiamiamola come vogliamo, da questo punto di vista è un pilastro della strategia di un'azienda secondo me, e quindi in questo caso io rappresento la Vortice e anche della Vortice, lo è sempre stata ma ultimamente abbiamo dato un impulso notevole a questa attività, ma come le aziende possono interpretare la ricerca e l'innovazione? Possono interpretare secondo me banalmente e sinteticamente in due modi, come un costo o come un investimento, Vortice ha deciso di interpretarla come un investimento, un investimento per il nostro futuro, per il futuro della nostra azienda, ma un investimento anche per i nostri clienti e quindi il marketing di prodotto poi è lo snodo che aiuta a passare dalla ricerca e sviluppo o ricerca e innovazione allo sviluppo vero e proprio dei nuovi prodotti e gioca un ruolo fondamentale. Ma cos'è che fa trasformare un'idea in un prodotto? Spesso e volentieri la ricerca si basa su un'idea, un'idea che è derivata come dicevamo dai trend di mercato piuttosto che dalle normative. Nel passato era sicuramente come abbiamo visto l'intuizione di un imprenditore o gli spazi di mercati disponibili, 50 anni fa non c'era tutta l'offerta di prodotti che c'è adesso, noi troviamo tutto, quindi c'era spazio e per chi aveva creatività, curiosità era sicuramente più facile sviluppare il prodotto giusto o il prodotto innovativo. Oggi invece c'è la necessità di avere degli elementi di analisi assolutamente strutturali, si parte dall'analisi del mercato, l'analisi della concorrenza, il ritorno dell'investimento economico, non dimentichiamoci che un'azienda il suo obiettivo è fare profitto, un'azienda sta sul mercato se fa profitto e se è in cassa, ma questo è un altro problema. L'aspetto prettamente strategico, spesso e volentieri dato come impostazione all'azienda, è l'obbligo poi dato dalle normative, le normative in fieri poi divendono obblighi e queste condizionano fortemente lo sviluppo di un prodotto. Se non sei stato attento a quello che sta arrivando, ti puoi trovare spiazzato nei tempi e lasciare grandi spazi alla concorrenza. Quindi le normative purtroppo che sono un pacco pesante da digerire, c'è molto di burocrazia, eccetera, di fatto rappresentano uno degli assi per l'innovazione, per la ricerca e l'innovazione per un'azienda. E poi c'è lo sviluppo di nuovi prodotti, a questo punto si entra nell'ambito dell'interfunzionalità, non è solo un fatto tecnico, lo sviluppo di nuovi prodotti è uno dei processi fondamentali all'interno di un'azienda, un'azienda si può secondo me sintetizzare con tre processi, quello centrale è il processo della vendita, senza di quello l'azienda non sta in piedi. Poi ci sono due processi, il processo di sviluppo prodotto e il processo di supply chain, che sono i due altri processi che attraversano trasversalmente l'azienda. E quindi deve trasformare l'idea di partenza in un prodotto, ma non solo, sarebbe troppo facile, deve essere un prodotto vendibile. E quindi capite che siamo partiti da un'idea e siamo arrivati a un fatto molto concreto. E quindi c'è la necessità di un rigoroso approccio procedurale per fasi successive, benestari, approvazioni, soprattutto per quello che riguarda le prestazioni, ma non solo, il costo può essere visto come una prestazione del prodotto, e quindi è fondamentale il rigore. E qui entra in gioco il design. Qui in questa fase, secondo me, entra in gioco il design. Perché? Perché è un elemento distintivo di un prodotto. Può essere un vantaggio competitivo. Necessita che la filiera commerciale però gli attribuisca un valore, altrimenti resta un mero esercizio. Però entra in gioco in questa fase, nel momento in cui si incomincia a plasmare il prodotto intorno alla normativa, intorno alle prestazioni, eccetera.